Prosegue a far discutere l'annuncio dell'assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi che ieri ha detto che il distretto sanitario unico del Valdarno non si farà. L'argomento è stato al centro oggi del Consiglio Comunale a Terra Nuova Bracciolini, il primo ad intervenire l'assessore competente Lorenzo Puopolo. La Gruccia e i Serri Stori riusciranno a collaborare, quindi tutto questo tenendo conto che le amministrazioni non hanno voluto chiedere alla regione di far parte di un'unica zona distretto e in queste condizioni la cosa più importante da salvaguardare è il servizio per i cittadini che sarà salvaguardato, addirittura sarà implementato. L'opposizione in Consiglio però non la pensa nello stesso modo. Il non aver fatto questa scelta politica, tutta politica, a mio avviso e avviso appunto del mio gruppo non offre quelle garanzie per la salvaguardia non solo dell'ospedale del Valdarno ma anche dell'ospedale di Figline Valdarno del Serri Stori che invece l'avere una zona distretto unica avrebbe sicuramente maggiormente garantito. Però in caso di una gestione deficitaria, cosa non improbabile nei prossimi anni per la regione toscana in termini sanitari, i piani di rientro che potrebbero essere attuati da parte dello Stato potrebbero coinvolgere in maniera estremamente dura i due ospedali in particolare quello di Figline ma anche quello del Valdarno e questo a nostro avviso metterà a rischio la tutela della salute dei cittadini. La conclusione alla sindaco di Terranova Bracciolini, Sergio Chienni. Stefano Saccardi ieri ha detto con chiarezza che entro l'anno verranno reintegrati i primari mancanti quindi a cominciare dalle figure più significative. Credo che l'obiettivo primario che abbiamo non sono gli strumenti, ma sono i fini e i fini è salvaguardare il livello della gruccia e dei servizi territoriali. Questo credo sia l'obiettivo. Il resto, zona distretto, patti, convenzioni sono strumenti per arrivare a quell'obiettivo. A noi ci serve garantirsi il fine ultimo e più importante che è quello dei servizi ospedalieri ed estraspedalieri. Grazie a tutti.